l'interpretazione di scalare di elena salmistraro è andata nella direzione non tanto della della dimensione delle scale spaziali quanto proprio del peso del progetto ha parlato di un peso specifico che va da una relazione semplice a qualcosa di estremamente più complesso quindi la sua small ha coinciso con una dimensione molto personale quella one to one che il progettista ha con il proprio mondo di idee e che quasi sempre trova uno sfogo nel nel disegno per questo ha fatto riferimento a maestri del del passato che hanno utilizzato proprio il disegno come veicolo del loro mettere a fuoco pensieri e idee dalle corbusier ad aldo rossi per arrivare ad un maestro contemporaneo come come a ion e elena effettivamente si ritrova in questa strada che è segnata quasi da una graficizzazione del dell'idea la scala m è stata quella in cui dalla bidimensionalità del foglio l'oggetto comincia a diventare reale comincia a diventare tridimensionale e quindi tutto il rapporto con gli artigiani ma anche con le industrie ha parlato di bosa ha parlato di lite ha parlato insomma di diversi contesti nei quali è possibile per un progettista avere un interfaccia tecnico ma anche di alta professionalità con chi deve effettivamente poi rendere un pensiero qualcosa di concreto qualcosa di vivo la scala del del large è stata quella delle sfide per per la salmistraro le sfide date da una complessificazione del progetto che passa attraverso campi di indagine che magari non sono quelli automatici meccanici per una designer di prodotto e quindi per esempio anche la la prova dell'installazione come in un progetto che ci ha mostrato di un'installazione pubblica per timberland nella quale si è dovuta mettere in gioco e conoscere proprio la relazione tra l'oggetto le cose e le persone il tutto all'interno di un tessuto cittadino quindi stiamo parlando di un'installazione che aveva come riferimento il mondo del dell'arredo urbano l'ultima la scala xl è quella dove forse elena più di ogni altra ci ha stupito perché da un lato ci ha mostrato delle delle icone quelle che stanno nei design museum di tutto il mondo quelle del dei pezzi storici dei grandi maestri che entrano in una dimensione proprio di memoria collettiva e su quello ci siamo tutti più o meno ritrovati ma ha voluto chiudere con un oggetto che invece non è di un maestro è un oggetto di design anonimo per certi versi che è una una graffetta e nella graffetta elena ha voluto proprio sintetizzare qualcosa che finalmente prende lo statuto di trasversalità assoluta perché la graffetta è un oggetto riconoscibile da tutti in tutto il mondo e che addirittura travalica la sua dimensione materiale per andare verso l'immateriale perché oggi come oggi magari non utilizziamo più questo questo piccolo elemento metallico per unire dei fogli cartacei ma tutti riconosciamo l'icona della graffetta nel negli attachment delle nostre mail e quindi è un diciamo è proprio un oggetto che è diventato un'icona nel vero senso della parola